L'importante non è vincere, ma ricordare. Questo è stato lo slogan del Memorial di Calcetto organizzato a Favara dagli amici di Emanuele Cavallaro, il ventenne scomparso lo scorso 28 febbraio, in un incidente stradale. Ricordare l'amico tra i campi di gioco è stato per i giovani organizzatori una dimostrazione di affetto anche nei riguardi dei familiari. Ad assistere alle finali, Amedeo, fratello di Emanuele. Beh, un ricordo di Emanuele, i ricordi sono assai, perché lui era un ragazzo alla mano, conoscevano tutto il paese e non aveva problemi con nessuno. Infatti, qui come si vede, ci sono tanta gente, tanti ragazzi che lo ricordano e un ricordo ci mancherà sicuramente. Era un ragazzo, come dico, pieno di vita, questo è sicuro. E ringrazio tutti i ragazzi che lo ricordano, anche con le istruzioni, lo abbiamo sempre vicino. Presente anche Salvatore Arnone, quest'ultimo reduce da un brutto incidente stradale avvenuto a Lampedusa. Gli amici hanno atteso il suo recupero fisico per organizzare il torneo. Hanno aspettato a me e adesso sto bene, come prima. Ora assistiamo a questa finale. Abbiamo voluto ricordare un nostro amico caro e poi era pieno di vita, l'abbiamo voluto ricordare con un memorial di calcio, anche se, tra virgolette, viene sempre a mancare. Per noi è stato tanto e lo vogliamo ricordare in qualsiasi posto, in qualsiasi momento della nostra giornata e della nostra vita. Per la cronaca, il memorial a cui hanno partecipato 16 squadre è stato vinto dalla rappresentativa caffetteria Bottone, che ha battuto in finale la squadra Pizzeria da Peppe per 3 a 1.